Lutto cittadino per Don Roberto Malgesini nel giorno delle esequie. L'ho fatto sapere il comune di Como, come aveva annunciato il sindaco Mario Landrescina, nell'immediatezza dell'omicidio di Piazza San Rocco. Un'altra tragedia colpisce la nostra città dopo i tanti lutti che la recente pandemia ha dolorosamente causato anche alla nostra comunità, ha detto il primo cittadino. Quanto è accaduto ci priva in maniera così brutale di un sacerdote, di una persona, di un nostro concittadino che ha dedicato la sua stessa esistenza senza risparmio a quella degli altri, ha aggiunto Landrescina, ricordando anche la morte, per mano, anche allora violenta, di Don Renzo Beretta. Siamo quindi orfani, oggi come allora, di una presenza discreta ma sostanziale che tanto bene ha fatto a davvero tante persone, ha detto ancora Landrescina. Questa morte ci trova ancora una volta lacerati, attoniti e perduti, mentre cerchiamo in vano spiegazioni e responsabilità. Abbiamo l'opportunità di ritrovarci come comunità solidale, avendo l'occasione di partecipare sinceramente al grande dolore dei familiari, dell'intera diocesi e facendo proprio il dolore anche di quanti lo hanno sostenuto e aiutato e di coloro che hanno da lui ricevuto conforto concreto, spirituale e soprattutto amore, ha concluso il sindaco di Como. Ricordo e parole di riconoscenza arrivano anche dal presidente della provincia, Fiorenzo Bongiasca. Conoscevo Don Roberto da tanti anni, subito dopo la sua ordinazione sacerdotale, infatti è stato vicario della parrocchia di Gravedona. L'ultima volta che l'ho incontrato, racconta, è stato alla Messa di Natale, celebrata dal Vescovo Cantoni al carcere del Bassone, dove era come sempre accanto alle persone in difficoltà, dice. La sua morte violenta oggi suscita in noi sconcerto e dolore, ma ci impone anche di ripensare alle politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza sul nostro territorio. Don Roberto, con il suo essere a servizio di ogni fragilità, con infinita generosità e umanità, anche con la sua morte, continua ad avere qualcosa da insegnarci, un insegnamento di carità su cui tutti noi rappresentanti delle istituzioni dovremmo senza strumentalizzazione riflettere, conclude il numero uno di Villa Saporiti.